Il PD comunale in conferenza stampa questa mattina per parlare dei primi dieci mesi dell'amministrazione Biondi, Stefano Albano, Laiorio, Nardantonio, Stefano Palumbo e Americo di Benedetto, ma tra il pubblico c'era anche l'ex sindaco Massimo Cialente. Dieci mesi nei quali il programma di mandato di Biondi non è stato realizzato su tre questioni chiavi, tuono Albano, che in apertura ha voluto stigmatizzare anche il fatto, giudicato dal loro gravissimo e riportato anche dalla stampa nazionale, dell'ormai nota chat dei capigruppo di maggioranza con l'immagine della bandiera della Repubblica di Salò. Scuole, progetto case, ricostruzione delle frazioni, scuole, noi avevamo ammesso sicuramente di avere delle responsabilità, ma avevamo anche detto alla città con sincerità che governare è una cosa complessa e che non ci sono soluzioni facili di fronte a problemi delicati come quello delle scuole. Biondi aveva promesso che a settembre del 2017 tutti gli studenti sarebbero rientrati in strutture nuove con l'indice di vulnerabilità noto, cioè con le verifiche già fatte. Qui la situazione, il trend, mi pare che i nostri studenti rientreranno a settembre 2018 ancora negli stessi MUSP senza che sia accaduto niente. Progetto case viene sospeso, fra l'altro senza un atto amministrativo, ma con una lettera del sindaco. Viene detto che viene sospeso perché prima gli aquilani, il centrosinistra avrebbe voluto fare un'invasione di stranieri, invece poi all'interrogazione scritta del collega Masciocco, il sindaco e l'assessore di competenza rispondono che il bando che noi avevamo predisposto va secondo loro sospeso e loro lo vogliono modificare perché per paura di avere morosi ritengono che bisogna alzare i canoni e che soprattutto il progetto case andrà destinato da ora in poi per lo più a aquilani benestanti. Quindi la retorica del voler aiutare i più deboli è una cosa che è venuta a galla non essere così. E ricostruzione delle frazioni, mi pare che siamo assolutamente come l'anno scorso, in più inizia a parlare la città. Le associazioni sportive dichiarano forte preoccupazione rispetto alla gestione degli impianti sportivi, le vicende del Gran Sasso, da Adia a Fior di Gigli fino a Stev Gran Sasso che esprimono profonda preoccupazione. L'associazione dei costruttori esprime profonda preoccupazione rispetto al tiraggio della ricostruzione in senso complessivo. I dati dimostrano che quest'anno ci sarà un sensibile calo, insomma tutto questo sinceramente davanti poi alle lacerazioni di una maggioranza che è riuscita a accumulare tensioni tipiche che si hanno dopo dieci anni di governo solo in dieci mesi, francamente costruisce un quadro generale molto preoccupante.